ciao amici benvenuti o bentornati sul canale oggi prepariamo insieme un mix di due torte che adoro lo strudel e la crostata non vi dico altro ma non perdetevi questa videoricetta questa torta nasce dalla fusione di due tra le mie torte preferite lo strudel e la crostata entrambe buonissime che fuse insieme danno un risultato pazzesco gli ingredienti che ci occorrono sono 300 grammi di farina 00 130 grammi di zucchero 130 grammi di burro la scorza grattugiata di un limone due uova e una punta di cucchiaino di lievito per dolci per il nostro ripieno invece ci occorrono due mele tagliate a cubetti due cucchiai di marmellata di albicocche pinoli quanto basta uvette precedentemente ammollate nell'acqua in base ai gusti e infine due cucchiai di zucchero mettiamo nel mix tutti gli ingredienti partiamo quindi dalla farina aggiungiamo lo zucchero la scorza del limone il pizzico di lievito aggiungiamo anche il burro tagliato a pezzetti a temperatura ambiente aggiungiamo anche l'uovo intero e il tuorlo e azioniamo il nostro mixer fino a quando si formerà una palla di impasto e naturalmente all'interno dello stesso mixer l'avvolgiamo nella pellicola trasparente e lasciamo riposare la frolla per un'ora in frigo prepariamo il ripieno ovvero mettiamo in una scodella le mele con le uvette precedentemente ammollate nell'acqua aggiungiamo anche i pinoli e i due cucchiai di zucchero semolato irroriamo tutto con mezzo limone spremuto e mescoliamo con la forchetta imburriamo e infariniamo uno stampo del diametro di 22 centimetri e riempiamo con la nostra pasta frolla buccherelliamo il fondo con una forchetta per fare in modo che la cottura sia più uniforme e riempiamo con il nostro ripieno come ultimo step creiamo le nostre strisce da crostata e spennelliamo con l'albume che abbiamo tenuto da parte inforniamo forno già caldo a 180 gradi statico per 40 45 minuti e dopo questo tempo la nostra magnifica crostata strudel è pronta da gustare per le vostre colazioni e per le vostre merende se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like iscrivetevi al canale lasciatemi un commento e se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video e noi come sempre ci vediamo alla prossima